Poi ovviamente lo spettacolo che diamo all'esterno non è comunque dei più edificanti, pur con un paragone non certo edificante con la Gran Bretagna di questo momento, anche perché la Gran Bretagna oltre alla crisi così veloce ha avuto per un po' di tempo un signore che si chiamava Boris Johnson, che in tema di pagliacciate credo che non abbia rivali. Nava su questo qualcuno oggi dice che potrebbe tornare Boris Johnson, fantapolitica o credibile? No, non è affatto fantapolitica, il problema è che qua tutto è possibile oggi in Europa, cioè in Francia, che io seguo più da vicino, il 70% dei francesi è d'accordo con la protesta delle raffinerie, nonostante che questa protesta abbia piedato milioni di automobilisti, quindi la Francia in primavera ha smentito le elezioni presidenziali con un voto all'estrema destra e all'estrema sinistra. Poi le cose possono avere un allure, un'immagine magari più nobile, più divertente, più stabile, più come volete voi, meno colorita delle berlusconate, tanto per riferirci a quello che viviamo in queste ore, ma la sostanza cambia poco. Grazie per la visione!